Rieccoci, Primo Sinterpares, consueto appuntamento dal mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite Massimo Bitonci, l'avete già visto, abbiamo visto i provabili possibili candidati, Massimo Bitonci è sicuramente favorito per quanto riguarda la Lega, insomma prenderà parecchi voti, e poi cosa succede? No, beh, a parte che nessuno, il 29 si deposita, è una questione di correttezza nei confronti di tutti, ecco, e diciamo anche come è la realtà, in realtà non è stato ancora deciso niente, quindi sono tutte ovviamente un gioco che viene fatto sulle candidature, però nulla è ancora fatto, cioè le candidature da noi sono state depositate, le richieste di candidature, Il nostro, per far capire anche ai cittadini che ci seguono, che è anche un argomento, insomma, non importante, perché è molto più importante il programma, comunque da noi ci sono dei requisiti che sono i 5 anni di militanza all'interno del movimento, quindi non pescheremo fuori, ecco, poi avere un posto di lavoro consolidato, perché penso che sia importante che uno abbia un posto di lavoro, quindi che possa, non dipenda direttamente dalla politica, Quindi abbia una propria attività e dopo si presti anche all'attività politica, quindi questo direi fondamentale, i sindaci dei comuni grandi non potranno essere candidati, anche perché l'impegno è un impegno importante, ecco, e quindi ci sono una serie di requisiti che fanno ovviamente ridurre il numero delle candidature richieste, ma così in tutte le province, quindi dopo a livello poi nazionale, ma l'ultima parola aspetta comunque a Matteo Salvini, verranno decise le richieste. Nella sua ultima esperienza a Roma, è stato presente nella Lega giusto nella sua ultima esperienza, è stato capogruppo, cosa si aspetta da queste elezioni Massimo Bitonci? Ma intanto mi aspetto un risultato importante per quanto riguarda la provincia di Padova, ma tutto il Veneto in qualità di presidente, cioè nel senso noi puntiamo a realizzare come centro-destra il cappotto, non il cappotto in Vornè Invernale, il cappotto. E' un modo che si usava anche giocando a briscola, in quattro raggi si aveva fatto cappotto. Esatto, ecco perché va bene, questo è il tema, nel senso che sono 28 collegi, come dicevo prima, e sono tutti quanti con la possibilità del centro-destra di vincerli, e quindi capite che anche a livello nazionale quanto peserà la squadra Veneta, e più sui proporzionali, dove i cittadini troveranno i nomi e i cognomi, quindi troveranno il nome dell'uninominale, ma nella stessa scheda anche il nome del proporzionale. Ci saranno quattro candidature per ogni collegio, quindi la lista è molto corta, anche questa secondo me è positivo, quindi tutti anche, quindi non liste lunghe, sapendo benissimo che in fondo magari non è lista di quattro, quindi con tutti la possibilità anche di essere almeno fino ai primi tre, insomma, ad essere eletti, che è una cosa dire positiva. L'alternanza uomo-donna, perché questa per la prima volta ci sarà l'alternanza sia nei capi lista, va bene, che nelle liste, quindi uomo-donna di genere fino al 40%, quindi la possibilità anche, ci saranno molte donne anche da candidare, e direi un aspetto anche questo qua molto positivo, ecco, quindi non la trovo così negativa, poi, in realtà, come la stanno dipingendo questo sistema elettorale. Certo, favorisce le coalizioni, però, dopo tutto, un sistema proporzionale puro, va bene, che quindi ognuno si sarebbe presentato con il proprio simbolo e basta, e dopo la contrattazione sarebbe stata fatta successivamente come succedeva trent'anni fa, ma, insomma, noi abbiamo bisogno di un sistema che sia minimamente maggioritario, e quindi con il discorso dei collegi magari questa quota di maggioritario si può raggiungere. Senta, ci giochiamo un po', vince il centro-destra, ovviamente vince la coalizione Meloni, Berlusconi, Salvini, e il Presidente del Consiglio lo farà chi prenderà più voti. L'accordo che hanno preso e chi ha preso un voto in più indicherà il Presidente del Consiglio. Io non so le percentuali tra la Lega, Forza Italia, e ovviamente presumo che Fratelli d'Italia prenderà meno degli attitudini, la maggiore votazione la prenderà sicuramente la Lega, però andranno d'accordo? Oppure già abbiamo visto Berlusconi, Casini, Fini, sono saltati? Ci sarà accordo tra queste tre persone, secondo lei? È un gioco che stiamo facendo? C'è sempre un gioco di ruoli che c'è prima e dopo, ma in tutti i partiti, in tutti i movimenti, anche all'interno del Movimento 5 Stelle, insomma abbiamo visto che hanno avuto delle frizioni, quindi è normale che ci sia un po'. Io penso che l'importante è che venga deciso un programma elettorale che non deve essere di 200.000 punti, deve essere di pochi punti, perché alla fine in cinque anni, cinque anni. Non è che puoi impostare tante cose, ma l'importante è che ci siano dieci punti fondamentali nel campo della sicurezza, anche questo è un tema delicatissimo, la gente è veramente stanca, io vedo e sento ogni volta che giro per strada incontro le persone, è stanca, è stanca di questa immigrazione incontrollata, ci vogliono delle regole, delle regole serie, la legittima difesa è diventato un tema, anche questo è importante, e non lo era qualche anno fa, è diventato importantissimo, anche grazie ai delinquenti che ci sono in giro, la certezza della pena, anche questo, da quanti anni diciamo che quando uno va in galera deve farli tutti quanti gli anni? È tutto prelepitonci questo. Perché se no, alla fine, quelli che vengono accoltellati, feriti, ecco, che il giorno dopo si vedono anche gli stessi poliziotti, che non hanno nessuna tutela, io sarò il primo a presentare una proposta di legge sulla tutela della polizia e dei carabinieri, perché sono stufo di vedere poliziotti e carabinieri picchiati, e quelli che li picchiano o che li accoltellano dopo due giorni magari sono fuori, spacciatori, ecco, basta, basta, se uno entra in casa, perché devo essere accusato io se difendo la mia famiglia? Sei entrato a casa mia, va bene, sei entrato in piedi, esci disteso, il problema è tuo, fai a meno di entrare in casa mia, e qualcuno di Sisa dice sì, ma però se era qualcuno che magari aveva suonato il campanello e veniva a trovarti in casa, ma cosa vogliamo prendere in giro? Uno che mi entra di notte in casa con un bastone o con un pezzo di ferro o con una pistola o con un coltello, viene per salutarmi, non prendiamo in giro la gente, perché sento delle discussioni che sono veramente incredibili da un certo punto di vista, se entri a casa mia e non sei venuto a bere il tè, va bene, o a salutarmi, ma entri per rubare o entri per far male alla mia famiglia, tu entri in un modo, esci in un altro e non posso essere imputabile io, ecco. Fermo, due cose, una, la sentenza è la pena e voglio ritornarci, però su questo ragionamento io la condivido, ma perché certe persone, certe teste la vedono in maniera diversa? Ci sarà un motivo, lasci stare un attimo alla parte politica, uno dice, entra a casa mia, cavoli, sto dormendo con i fili, se arriva qualcuno prendo una pistola e li sparo, l'altro dice, no, perché spararli, deve essere la politica, ecco, perché l'altro ragiona... Perché questi quattro radical chic del tubo che ci sono anche a Padova, va bene, devono guardarsi i sondaggi e capire che l'80% della gente vuole una modifica seria della norma sulla legittima difesa, va bene, questo deve essere, no che siccome sono là di cascica e abitano sull'attico, va bene, con le spranghe e allora fanno sì, ma però attenzione perché sei venuto a bermi il tè, a bere il tè, ma dai, ma perché voi siete, vi sentite sicuri, avete la scorta e allora quelli che vivono, che vivono magari in una parte più difficile della città, devono subire questa gente come a Padova che non capisce un cavolo. Fermi, però non solo quelli vanno a bermi. Fermi, ma la realtà è questa, direttore, la realtà è questa, che purtroppo in Italia, in Italia, come sul tema della prostituzione, va bene, sappiamo che l'80% di più degli italiani dice che è la volta buona per regolamentare la prostituzione, basta vedere ragazze e ragazzi per strada, se uno vuole fare quello che deve fare, va bene, lo fa all'interno di regole, va bene, e magari pagando le tasse, magari anche con certificato sanitario, perché dobbiamo avere quelli che dicono, eh no, attenzione, perché non si può legalizzare la prostituzione, e sono sempre che i quattro, radica e chic, va bene, legati a un certo mondo, ecco. Sono anche quelli che frequentano i poveri, la chiesa, non sono solo i radica e chic. La domanda che io invece le faccio, vorrei capire da lei, perché certa gente... Ma io parlo anche questi, sono quelli che sono attorno anche a certi... Certo, ma io la domanda la faccio perché... A certi giri... La mia domanda che la faccio, se riesco ad avere risposta, è perché la gente vede le due cose in maniera diversa, lasci stare un attimo la parte politica, quando l'obiettivo è quello, la prostituzione, è brutto vederli, è giusto che sia in una casa, con i certificati medici, con certe sicurezza, sono d'accordo con lei, se uno viene a casa mia mentre sto bevendo, non viene a bere il tè, sono d'accordo con lei. Ma perché c'è gente che la vede in maniera diversa da come la vede lei, da come la vedo io? Perché non la città, radica e chicca. Sì, ma se sono in minoranza, se sono in minoranza, devono capire che sono una minoranza. Cioè, qual è il problema? Che questa minoranza non può governare la maggioranza. Siccome loro sono una minoranza, e l'influsso di questa minoranza è pesante a livello romano, e ci spieghiamo già benissimo perché c'è il problema della risoluzione di questi temi, che sono antichi quanto l'uomo. Ma non volevo questa risposta, Bittucci, volevo capire, secondo lei, ho capito quello che dice, volevo capire, secondo lei, perché nel cervello della gente c'è questa diversità di opinioni? Questo, lasci stare un attimo il concetto di radica, perché se uno dice la prostituzione è la chiesa, perché sono completamente slegati da quello che è il mondo reale e che la soluzione dei problemi è univoca. Non ci sono soluzioni, cioè tu, per sistemare il problema della prostituzione, l'unico sistema che hanno trovato in tutti i paesi occidentali è quello di renderla legale, perché se tu la rendi illegale, attorno al sistema della prostituzione c'è il sistema dello sfruttamento... Perfetto, paesi nord europei, in tante altre parti, è ovviamente... Ma perché qui in Italia c'è la chiesa che incide? Per quale motivo? Bravo, hai detto la parola giusta? No, l'ho chiesto, è la chiesa che incide. Cioè, lo dice un cattolico praticante, però purtroppo su certi temi, devo dire la chiesa, come anche, sono purtroppo con il paraocchi, e hanno una serie di persone che gli vanno comunque dietro. Ho capito, certezza della pena, le faccio un esempio. In Inghilterra, dico un esempio banale, alle partite di calcio una volta gli oligans ne facevano di tutti i colori, è arrivata una legge severa, tu sbagli, vai in galera e hai la certezza della pena, sono terminati i fatti. Perché qui in Italia c'è una garanzia incredibile per tutti gli episodi di violenza che succedono da parte dello Stato? E perché non viene cambiata? Nell'86 sono stato, ero a Londra, e sono stato a vedere Arsenal-Liverpool, cioè una classica direi, che qualsiasi amante del calcio, insomma dice qual è la partita in Inghilterra, Arsenal-Liverpool, no, ecco. Non c'erano le recinzioni, va bene? Ma è cambiato poi lì, certo. Non c'erano le recinzioni, però cosa c'è, cosa hanno messo? Hanno messo le prigioni all'interno degli stadi, va bene? Perché se li beccano, se li beccano, li mettono dentro, non servono le recinzioni all'interno degli stadi, non servono. Però se ti becco, se ti becco, stai in galera e ci stai dentro, la certezza della pena è proprio questo, direi, io ti lascio libero, siamo in un Stato libero, democratico, le regole sono queste, però se tu infrangi queste regole, tu in galera ci vai, ma non ti do i benefici che ci sono adesso, e i domiciliari, e questo, e quell'altro, e l'affidamento ai servizi, e così, no, tu hai fatto rapina a mano armata, e in Romania fai 18 anni e te le fai tutti quanti dentro, neanche un mese in meno, voglio vedere dopo uno, ci pensa? Speriamo, quando c'è stato... Ma bisogna fare la politica carceraria? Cioè non puoi dire, siccome c'è il sovraffollamento, il modo contorto con cui ragiona certa gente, anche a livello ministeriale, siccome c'è il sovraffollamento delle carceri, facciamo un condono, va bene? No, siccome c'è il sovraffollamento delle carceri, tu fai le carceri, va bene? Come negli Stati Uniti d'America, nella popolazione... Io mi auguro sia così. Ci sono dieci volte i carcerati, rispetto al numero di abitanti in America, rispetto a quelli che ci sono in Italia. Perché? Perché loro le carceri le fanno. Non è che io ti do lo sconto della pena. L'hai combinata, va bene, vai dentro. Certo che anche la giustizia, bisogna cercare di non beccare gli innocenti, quindi magari cerchiamo di guardare più il sistema americano. Se non sono sicuro, non ti metto dentro. Non che ho un 30% delle persone che sono in galera, che sono in attesa di giudizio. Tu in galera ci vai quando mi hai condannato, non in attesa di giudizio, che un sistema quasi coercitivo nei confronti delle persone, dove una parte di queste poi risultano innocenti e bisogna anche che li paghiamo. Magari riducendo pochi i tempi processuali. Sì, riducendo i tempi processuali. Ma mi auro che qualcuno vinca, che qualcuno inizi proprio da questo ragionamento con l'accertezza della pena, vedrà che con l'accertezza della pena tanti fatti che accadono dai politici, dai cittadini comuni, diminuirebbero e la gente andrebbe molto probabilmente più a votare. Grazie Massimo Mitocci. Grazie, buona serata a tutti. Avremo modo di vederci da qui alle prossime amministrative e di nuovo nella nostra missione di Primus Interparis. Grazie Massimo Mitocci. Grazie, un saluto. Siamo arrivati in chiusura e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Interparis. Buonanotte. Grazie a tutti.